Ok, una volta terminato il nostro primer di scultura, eccolo qua, che abbiamo effettuato utilizzando solo gli strumenti di cui abbiamo finora parlato, è il caso di andare a analizzare tutta un'altra gamma di strumenti un po' più complessi e di funzionalità complesse che ZBrush mette a disposizione per andare a migliorare e semplificare il nostro lavoro di scutting. Il primo strumento di cui è il caso di parlare è la modalità Transpose, perché questa è una modalità che utilizzerete moltissimo per andare a cambiare le proporzioni del vostro modello, muovere le parti e andare a fare la messa in posa. Il Transpose si attiva entrando in modalità Move, Scale o Rotate. Nel momento in cui faccio questo vediamo che compare questa linea gialla caratterizzata da tre cerchietti e ognuno di questi cerchietti è caratterizzato dall'avere un cerchietto esterno di colore arancione e uno interno che nel caso dei cerchi laterali è rosso, nel caso del cerchio centrale è bianco. Il bello della modalità Transpose è che si avvale anche di un diverso tipo di maschera e non si può parlare del Transpose se non si parla della maschera topologica. Infatti in modalità Transpose se io premo CTRL e comincio a cliccare all'interno del modello vedete che ho la possibilità trascinando di creare una maschera che segue la topologia del modello. Per spiegare la cosa meglio attivo la modalità Polyframe, aggiungo il livello di suddivisione e voglio ripetere il processo. Iniziando a cliccare su questo punto se mi sposto verso il braccio vedete che la maschera verrà creata andando a riempire via via gli edge loop che seguono questa topologia. E quindi lo strumento Transpose e la maschera topologica funzionano benissimo con quei tool che hanno una topologia ordinata ma anche con degli scheletri ottenuti dalle z-sfere in quanto le z-sfere, l'adapti skin, creerà una skin che ha un andamento degli edge loop che segue i rami della nostra struttura di z-sfere. Non funziona molto bene con ad esempio delle mesh create con l'algoritmo della unified skin, magari ne parleremo dopo, del Dyna Mesh o dello Shadow Box. Si può usare però bisogna avere determinati accorgimenti. Oltretutto la maschera topologica e la modalità Transpose generalmente si utilizza per mesh a basso o medio numero di polivoni. Anche perché per alto numero di polivoni a volte rallenta un pochino il z-brush quando si crea la maschera topologica. Non tanto ma un po' si nota. Ok, una volta che abbiamo creato la maschera topologica, che cosa possiamo fare con questo strumento Transpose? Come già detto abbiamo questa linea e la modalità per creare nuove linee è di cliccare su una parte vuota del modello. E creo una nuova Transpose Line. Da notare che la Transpose Line, nel momento in cui la creo, snapperà alla superficie sotto la quale mi trovo. Quindi vedete il punto di inizio e il punto di fine che snappa a questi due punti. Se invece vado a finire su un'area vuota dello schermo, mentre sto creando la mia Transpose Line, vedete che questa snapperà al piano dello schermo. Se mentre la creo vado a premere Shift, in seguito, inizio a creare la premio Shift, vedete che posso posizionare la Transpose Line a incrementi di angoli precisi. Dovrebbero essere 22 gradi e mezzo. Quindi questo 0 gradi, 22 e mezzo, 45 gradi, 67 e mezzo, 90 gradi. Ok. Quindi, una volta creata l'Action Line, posso cominciare a utilizzare lo strumento Transpose. E come funziona questo strumento? Il principio è che se clicchiamo su uno dei pallini esterni, per i pallini laterali andrò a muovere il particolare lato. Quindi posso cambiare la forma e la posizionamento della Transpose Line. Cliccando sul cerchio esterno del pallino mediano, vedete che posso muovere la Transpose Line. Quindi posso andare ad esempio a posizionarla all'interno della mesh. A questo punto, cliccando sui cerchi interni, attiverò effettivamente le funzionalità del Transpose, che sono diverse a seconda che clicchiamo i pallini esterni e che ci troviamo a Move, Scaler, Rotate. Quindi andiamo ad analizzarli uno per uno. In modalità Move, cliccando su un pallino esterno, farò una stiratura della parte smascherata partendo dal pallino opposto. Questo è ottimo ad esempio per cambiare velocemente le proporzioni di parti del modello. Cliccando sul pallino interno, invece, andrò effettivamente a muovere la parte smascherata. Esiste una nuova funzione di cui parlo in seguito, in modalità Scale. Cliccando sul pallino interno, faremo lo scaling sui due assi del piano che è perpendicolare alla Transpose Line. Quindi c'è uno scale differenziale, non viene scalato lungo la linea dell'Action Line. Invece, cliccando su uno esterno, faremo lo scaling uniforme per tutti e tre gli assi. C'è un problema quando si usa questo Traspose in simmetria, lo scale non funziona molto bene, perché lo scaling avverrà dalla linea mediana del centro di simmetria del modello. Quindi generalmente quando si vuole cambiare la dimensione di un arto, ad esempio, quello che io faccio è scalare l'arto, dopodiché mascherare questa parte e applicare uno Smart Resim. Come già visto nel video dedicato proprio alla simmetria. Ok, in modalità Rotate avete la possibilità di ruotare le articolazioni. Quindi posso mascherare una parte e se clicco su uno dei pallini laterali, potrò ruotare lungo il piano dello schermo. Lungo l'Action Line, usando come pivot di rotazione il pallino opposto. Se invece clicco sul pallino interno, vedete che posso ruotare lungo l'asse della Action Line. E questo è buono per fare effetti di twisting, degli arti e via dicendo. Esistono delle modalità addizionali che si possono richiamare tramite la pressione del tasto Alt. In Rotate Mode, se vado a premere Alt e clicco su un pallino esterno, posso andare a ruotare tutto ciò che è al di là dell'Action Line. Quindi, idealmente, ZBrush creerà una sorta di piano qui e ruoterà tutto ciò che si trova al di là di questo piano. Cliccando invece sul pallino interno, con Alt e premuto, faccio una sorta, vedete, di rotazione differenziale, con una sorta di fall off, muovendomi lungo le parti finali. Questo è un comportamento leggermente cambiato rispetto alle versioni precedenti, però ci può servire, ad esempio, per effettuare degli effetti di twisting differenziali. Io personalmente non lo uso mai, ma vale la pena saperlo. In modalità Move, invece, premendo Alt e cliccando su uno dei cerchi finali, laterali, vedete che posso muovere la parte smascherata, in verità posso scalarla, ma non toccando e non cambiando le dimensioni e le proporzioni di tutto quello che sta al di là dell'Action Line. Quindi solo quello che cade all'interno di quest'Action Line verrà scalato. In verità ci sarà un fall off da qui fino a qui. Vedete, solo quest'area viene influenzata. Cliccando sul pallino interno, avviene una cosa simile a quanto avveniva per il Rotate, quindi andate a muovere solo questa parte centrale con un fall off che si muove verso i lati. A cosa serve questo? Ad esempio, se vogliamo accorciare il nostro vanbraccio senza cambiare la proporzione della mano, possiamo farlo in questo modo. Ok. Esistono delle modalità alternative. Prima di fare questo voglio mostrare una nuova funzione che lavora benissimo con il Dynamesh e con le mesh a basso numero di poligoni, in Move, se abbiamo un tool composto da un solo livello di suddivisione, quindi vado qui nel pannello Geometry e cancellerò gli altri livelli di risoluzione, premendo Control e cliccando su questo pallino interno, non accade assolutamente nulla, e so anche perché non accade nulla, perché questa mesh di base ha dei livelli. Quindi parleremo dopo dei livelli, ma questa cosa non funziona, non possiamo cambiare la topologia se la mesh ha dei livelli applicati. Ok, dicevo, premendo Control e cliccando vedete che posso effettuare delle estrusioni della parte smascherata. Questo è ottimo se vogliamo ad esempio aggiungere topologia. Funziona molto bene con delle mesh elementari, perché ad esempio in questo caso posso effettuare una cosa di questo tipo. Fare un'estrusione, ruotare, estrudere ancora, e vedete che di default, non appena faccio l'estrusione, la parte, la geometria che viene creata ex novo, verrà mascherata, e questo mi permette di effettuare velocemente i lavori di questo tipo. Non è una funzione che va a rimpiazzare il box modeling tradizionale che si può fare in altri programmi, ma giusto se dovete fare delle forme molto semplici, molto velocemente, senza dover cambiare programma, o non avete la possibilità di cambiare programma, questo è un modo molto veloce per effettuare queste estrusioni. Anche per la maschera topologica vale la regola, secondo cui una volta creata, facendo ctrl-click e cliccando sulla maschera possiamo sfumarla, mentre con ctrl-alt-click possiamo renderla più netta. Una nuova funzionalità del Traspose, se con lo strumento Traspose adesso associamo un alfa, nel momento in cui andremo a creare una maschera, abbiamo la possibilità di trascinare questa forma e creare una maschera che ha la stessa forma dell'alfa. è molto simile al metodo drag-rit-angle applicato al mask-pen, perché se noi utilizziamo questo mask-pen brush, in modalità drag-rit-angle, e associamo lo stesso alfa, cambiando la focus shift, vedete che possiamo fare un effetto simile, l'unico problema è che in modalità drag-rit-angle, se magari vogliamo cambiare il posizionamento, non possiamo, mentre in modalità Traspose, questo è possibile, perché nel momento in cui la creo, posso spostarmi e decidere dove posizionarla. ricordare solo che una limitazione è che se creo questa maschera e poi decido di farla più piccola, non posso farlo, perché tornando indietro, vedete che verrà in qualche modo strecciata, ci sarà uno stretching lungo l'asse della action line. Vale la pena notare che questa maschera verrà creata su tutta la mesh che in Raycast incontra questo alfa. Per spiegarla meglio, aggiungo un paio di livelli di suddivisione, la creo qua e vedete che la maschera si trova applicata qui, 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 qui e qui. Cosa diversa da quanto accade in modalità drag-rit-angle, in cui questa parte non viene mascherata. Infine, esiste una nuova modalità di Transpose che deve essere selezionata qui nel pannello dei Brash, è questo Transpose Smart che lavora in maniera leggermente differente, perché vedete che ZBrush analizza la topologia dal punto in cui clicchiamo e cercherà di mascherare tenendo conto delle curvature. Se noi ad esempio facciamo una cosa di questo tipo, aggiungiamo dei dettagli, magari con uno strumento che crea delle linee dure, vediamo se funziona in questo modo, e poi attiviamo la modalità di Transpose Smart, vedete che ZBrush cercherà di mascherare seguendo queste curvature. Non è perfetto, però in qualche modo vi faciliterà in alcuni casi il compito di mascherare parti precise. Potete aggiungere ovviamente la maschera, quindi se comincio a creare un'altra maschera e premo Shift vedete che questa si addizionerà a quella presente e questo è un modo ottimo per andare a creare in maniera controllata le nostre maschere. Ok, quindi questo è grosso modo tutto per quanto riguarda lo strumento Transpose e ci vediamo nel prossimo video.